Lucia Borgonzoni ha presentato ufficialmente a Bologna la lista civica che la sostiene nella corsa per il centro-destra alla presidenza dell'Emilia Romagna, capolista sotto le due torri e l'ex sindaco di Monzuno, Marco Mastacchi. In squadra ci sono rappresentanti di varie categorie, da Beatrice Buscaroli, storica dell'arte, ad Alessio Carbone, del comitato Attacchiamoci al Tram, passando per il consigliere comunale Giulio Venturi e Stefano Bulgarelli, figlio dello storico calciatore Rosso Blu. La lista civica è stata presentata in tutte le province della regione, portavoce regionale Domenica Spinelli, sindaco di Coriano nel Riminese, al fianco di Borgonzoni in conferenza stampa. Sono persone che si sono avvicinate a un progetto, che è il progetto che comunque ha quest'area di centro-destra, per quanto non mi piace molto usare il termine centro-destra perché per me ha un'idea di regione, diversa dalla regione come ora, si sono avvicinati, certi rappresentano o sindaci, ex sindaci, persone che sono state nell'amministrazione, altre associazioni, varie sensibilità che sono nei territori della nostra regione. Alla fondo lanciato poche ore prima dal presidente uscente candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini, che ha invitato Borgonzoni a dimettersi dal Senato fin da ora se tiene all'Emilia Romagna, Borgonzoni risponde a stretto giro. Il livello è sempre il livello da prima elementare? Diciamo a Bonaccini se mi risponde perché le agende in sanità sono chiuse, perché ci sono liste d'attesa lunghissime in quelli che non sono le varie visite o le varie operazioni che vengono pubblicate dal sito, dica perché in agricoltura ci sono aziende che hanno aspettato per due anni i fondi, dica perché non c'è un piano di bonifiche regionali, dica perché non utilizza i fondi del dissesto idrogeologico. Entriamo veramente un pochino nei temi, basta fare i bambini piccoli. Borgonzoni si è detta pronta a un altro confronto in tv con Bonaccini. Io dopo il primo confronto mi hanno chiamato televisioni per fare altri confronti, ho detto sì a tutti e suppongo che se dall'altra parte ci fosse stato un sì alle stesse trasmissioni, ora staremo qua a parlare non di un incontro ma magari di due incontri o tre incontri fatti assieme, per cui devo dedurre che dall'altra parte c'è stato un no.